Finissage d'eccezione a Palazzo Guiscardo per la Galleria Cardi di Pietrasanta e la sua mostra The Art Must Go On, il viaggio dell'arte contemporanea. Una selezione di artisti accomunati dalla sperimentazione dei linguaggi e dalla gestazione di un'immagine critica, comunicativa, disinibita e permeata dalla tematica del viaggio. Dallo spagnolo Bernardi Roig al belga Wim de Voix, dal raffinato svizzero Peter Wutrich all'americano Greg Colson, alle irriverenti e ciniche opere di Bertozzi e Casoni, alla figura scheletrica protagonista dell'opera For the Love of the God Laugh di Damien Hirst, che deride, con una sarcastica risata, l'ultimo viaggio. Solo alcune delle opere della mostra di successo, ospitata dalla Galleria Cardi, che hanno colpito e catturato l'occhio dei tanti intervenuti a Palazzo Guiscardo, in una suggestiva sala densa di innovativi approcci all'arte. Al piano superiore, evento collaterale, una seducente sfilata a cura di Massimo Rubini, la nota boutique di moda di Sarzana, con le sue proposte per l'autunno-inverno, ma anche, in perfetto stile anticipatore delle mode, un flash di modelli unici in vista della nuova stagione primavera-estate 2012.